Ciao, sono Claudio Chiapucci e volevo dare una mia idea di quello che si può fare in alternativa a questo momento, visto che siamo reclusi in casa, agli allenamenti soliti che eravamo abituati a fare, quindi dei lavori indoor diciamo. Credo che mi conoscete tutti, ovviamente sono ciclista, ho fatto 15 anni da professionista, il mio palmarès lo troverete senza dubbi, senza problemi dappertutto su internet e quindi non mi sto a dilungare su tutto quello che ho fatto da da professionista nel mio mestiere, giusto per dirvi che attualmente sono ancora nell'ambito dello sport, mi alleno ancora, diciamo che faccio ancora attività e partecipo a delle gare dove sono ancora invitato come testimonia, comunque mi devo tenere allenato e grazie a questo ho visto un po' l'evoluzione anche degli allenamenti negli anni che sono passati, quindi se devo parlare qualcosa in specifico di quello che è il mio mondo, vorrei parlarvi dei rulli, dell'allenamento sui rulli, che ha fatto passi da giganti nella tecnologia, devo dirvi che è un mondo dove si spazia a lungo e largo veramente sia sul materiale che sulla preparazione, quindi io vi darò dei consigli in linea di massima di quelle che sono le mie esperienze e di quello che ho provato, soprattutto attivamente stando da casa, che tra l'altro sto partecipando anche al Giro d'Italia Virtual sui rulli e mi sto facendo anch'io un'esperienza in più di quello che già avevo, ovviamente avendo più tempo a disposizione, tutti i giorni a disposizione in questi già quasi due mesi ho avuto l'opportunità di migliorarla. Vi posso dire che i rulli ci sono già tre tipi di rulli, c'è il rullo classico, il rullo smart e il rullo interattivo. Ovviamente giusto per dire un'infarinatura, il rullo interattivo è quello che con le varie app che ci sono oggi a disposizione potete proprio simulare completamente i percorsi, i smart siete voi che dovete dare comunque le resistenze e tutti i valori che servono, il classico è quello che esisteva già da tempo, quello dove monti la bici e pedali ma non hai ovviamente nulla di quello che è la tecnologia elettronica. Devo dirvi che l'allenamento sui rulli è molto impegnativo sia a livello fisico che a livello mentale, quindi bisogna stare attento a non prendere la noia perché altrimenti non vi passa più. Ovviamente chi non ha il rullo diciamo moderno può far passare questa noia anche magari con la musica e qua siamo proprio sulla base. Su quello che riguarda gli allenamenti io consiglio di non andare l'ora all'ora 30 perché bisogna poi anche curare la qualità oltre all'intensità anche degli allenamenti se si vuole migliorare. Se si ha in testa per esempio la resistenza consiglio di fare piuttosto che due ore continuative magari un'ora al mattino e un'ora pomeriggio in modo da spezzare anche perché il rullo va fatto in un luogo fresco e comunque in un luogo dove non si suda molto, cercare di sudare il meno possibile perché già essendo statici si suda tanto quindi bisogna bere molta acqua, bisogna riedertarsi con anche bevande isotoniche anche per non stancarsi troppo perché ovviamente sudando di più ci si stanca anche di più. Gli obiettivi sono quelli che bisogna porsi non nell'allenamento quindi fare per esempio 10-15 minuti di riscaldamento e per finire con un bel anche defaticamento che è molto importante sia per essere caldi all'inizio e per essere anche sciolti alla fine. Per lavori di maggiore durata vi consiglio lavori sul fondo medio perché ovviamente anche qua bisogna sapere quali sono le vostre zone di lavoro perché dovreste fare dei test e sapere qual è la vostra soglia di FTP che si usa oggi molto la potenza quindi bisogna sapere anche questo, le zone variano dalla Z1 a Z5-6. Diciamo che la zona più allenante più importante è la Z3, la zona del fondo medio quella che alleni molto la resistenza. Mentre un altro tipo di allenamento alternativo sarebbe delle sedute di forza e un altro ancora l'interval training. Io ho anche delle tabelle di massima preparate tanto per capire anche come funzionano però il lavoro di forza per esempio è una partenza da fermo e dare tutto il massimo della potenza per un torto di secondi. L'interval training invece è un tipo 4 minuti alternando 30 secondi a tuta e 30 secondi di recupero e invece il lavoro medio dovete fare tratti di 10 minuti a 90-100 rpm per 10 minuti poi anche di recupero perché ci vuole anche recupero. Io consiglierei questo di farlo ogni tre settimane perché almeno vedete intanto quanto avete recuperato e quanto avete migliorato anche nel diciamo nel lavoro svolto. Non bisogna ovviamente esagerare bisogna adeguarlo alle proprie esigenze alle proprie caratteristiche e comunque personalmente posso dire che il rullo lo sto usando molto più adesso che quando era il momento e mi sono accorto anche che se fatto regolarmente è bene e vi aiuta anche a perdere peso perché io in questi due mesi ho notato proprio questo calo di peso dovuto anche alla continuità del lavoro però bisogna stare attento a non confondere inizialmente il calo di peso per il sudore ma il calo di peso è quello che poi vedrete strada facendo quindi mi raccomando avere una costanza che è la cosa che ti premia di più e fare questi lavori in progressione in attesa di poter uscire per strada allenarsi su strada io da casa vi ho dato una piccola spolverata quello che può essere il lavoro sul rullo senza troppo esagerare ma concentrarsi perché tra poco riusciremo ancora a allenarci come sempre abbiamo fatto vi saluto spero di essere stato esaudente su alcuni punti nello specifico ovviamente ho anche delle tabelle a disposizione grazie dell'attenzione ciao